Siamo in compagnia di Cristina Serafini e siamo venuti l'anteprima di che film? Sì, non 5 senza te. Bellissimo film. E tu sei una mamma molto moderna, una mamma che lavora, una mamma che deve lasciare il suo piccolo bambino in mano a mio fratello e al suo fidanzato. Quindi grazie che ne hai definito una mamma moderna e userei parole meno gentili per una mamma che abbandona il figlio per partire all'estero. Ecco, anche perché non lo lasci per andare a una città vicina, ma pensi qui per tre mesi per andare addirittura a Shanghai. Esatto. E' un tempo preoccupata lasciare questo bambino in mano a mio fratello. Ma preoccupata no, perché so che mio fratello e il suo compagno sono persone di cuore, soprattutto il rapporto con il suo compagno non è l'immigiale, non ti piace tantissimo. Però mio fratello sì, sembra un biglava, una persona di cuore, una persona di cui mi fido totalmente. Quindi l'unica persona che potrei lasciare il mio bambino è senza altro dubbio. Ti ringrazio. Inviti i nostri amici a venire al cinema. Sì, venite al cinema, per favore, venite a vedere questo film che è divertentissimo e ha anche dei contenuti molto toccanti, molto umani. Io sono molto felice di farle parte. Sono arrivata dall'America proprio ieri per l'anteprima del film e domani tolmo a Los Angeles. Spero che veniate a vederlo tantissimo. Grazie. Grazie. Grazie a tutti ragazzi. Grazie a tutti.